ok mario è un titolare di azienda molto attento ed informato prepara preventivi fatture e contratti fatture e contratti fatture e con fatture e contratti e altro che stampa ogni giorno da un'azienda sua cliente incontra luca e grazie a lui scopre che tutte le azie che tutte le aziende anche quelle anche quelle che no anche quelle che noleggiano stampanti proprio come quella di mario